Estate rovente e senza acqua. Nel Cilento l'atavico problema delle località costiere, quello dell'emergenza idrica, si sta nuovamente ripresentando, come oramai accade da anni, soprattutto durante il periodo estivo. Continue interruzioni idriche dovute a guasti alla condotta del faraone si stanno infatti verificando in questi giorni. Le ultime rotture della tubazione sono state rinvenute nei territori di Alfano, Rocca Gloriosa e Rofrano e tra l'11 e il 12 luglio a restare senza acqua a causa di urgenti e necessari interventi di manutenzione sarebbero state moltissime località marine del Cilento. Da Consac però rassicurano che sin dalla mattinata di oggi, mercoledì 13 luglio, l'erogazione idropotabile è regolare. Terminate le operazioni di riparazione e ripristino del servizio, tutto ha ripreso a funzionare, tranne che nei punti più alti dei comuni che sono stati interessati dall'interruzione, dove l'acqua arriverà nel pomeriggio. A riferirlo è l'ingegnere Parrilli. Non c'è da preoccuparsi, ha detto, se i guasti interessano le distribuzioni locali. In questo caso si tratta di piccole disfunzioni su cui comunque sono chiamate ad intervenire le squadre operative di Consac. Ecco dunque che sul sito dell'azienda si possono leggere tanti e diversi avvisi di sospensione del servizio idrico, ma quando ciò avviene per un intervallo di poche ore tutto può dirsi normale. Diversa e più seria invece la questione se si parla di danni alle grandi tubazioni, proprio come nel caso della condotta del Faraone. La novità è però che due chilometri di questa, entro settembre, saranno sostituiti grazie all'ottenimento di fondi da parte del Consac per un progetto esecutivo che prevede, fra le altre cose, anche la realizzazione di una scogliera per proteggere il tubo della condotta dall'erosione del mare. Il piano di lavoro approvato dal Ministero dell'Ambiente nel maggio dello scorso anno per una spesa di circa 2 milioni di euro coinvolgerà per l'esattezza il chilometro e mezzo che si trova a cavallo tra Rocca e Alfano e i 900 metri che si muovono lungo la costa di Pisciotta. Un passo in avanti è stato fatto dunque anche se è come fare il solletico al dinosauro, ha dichiarato l'ingegner Parrilli, la condotta del Faraone è ben 70 chilometri. Grazie a tutti.